La ditta Benetti di Mauro del figlio Stefano è un fornito punto vendita in cui potrete trovare tutto il necessario per il vostro giardino. Situato nella zona industriale di Rodigo, in via Marcora 14, Benetti offre un'ampia scelta di macchinari e attrezzature nuove dell'azienda leader nel settore, Oleomac. Oleomac, con sede a Reggio Emilia, propone motoseghe, lecespugliatori, tosaerba, trattorini, soffiatori, atomizzatori, accessori e pezzi di ricambio altamente tecnologici, a garanzia di qualità e affidabilità. Grazie all'ufficina interna, Benetti vi garantirà anche riparazioni veloci e sicure. La cura del cliente è alla base del servizio di Benetti, sempre attento anche alle novità del settore, che arrivano periodicamente per soddisfare giardinieri professionisti e appassionati del green. Visitate il punto vendita per scoprire tutte le novità. Mauro e Stefano Benetti vi aspettano per consigliarvi il miglior acquisto. Dalla strada principale entrate nella zona industriale, girando a destra, e lì troverete la sede di Benetti.